Grazie mille, grazie a tutti i partecipanti, agli speaker e partecipanti. Ricordo che avremo altri due webinar su questo argomento. Il primo, il 16 di maggio, in cui parleremo di inclusione, innovazione e cooperazione, e quindi della sostenibilità etico-sociale, con anche la partecipazione dell'NGO Solidaridad. E il 23 maggio avremo invece un'altra sessione in cui parleremo di certificazione e di go-washing e consumo responsabile con la partecipazione anche dell'NGO Cittadinanza Attiva. Grazie a tutti e buona giornata.